È già da due anni che avevo come obiettivo andare all'universiadi. Purtroppo le universiadi di Lucerno 2021 sono state posticipate e poi annullate e quindi mi era rimasto questo tarlo, questo obiettivo da raggiungere. È andata abbastanza bene, è stata un'esperienza indimenticabile. Le gare sono andate abbastanza bene, non tanto quanto volevo, perché alla fine ho fatto dodicesimo, quindicesimo, mentre il mio target era una top ten. Però dai, tutto sommato, neanche male, posso essere abbastanza soddisfatto, ma non appieno. Il clima è stato unico, penso che sia un'esperienza irripetibile, poter rappresentare l'Italia e anche comunque un po' Genova in un contesto internazionale, è stato fantastico. Ecco, il gruppo degli italiani si è creato un rapporto unico e lo sto vedendo quando vi rincontro sulle piste. Sì, dai compagni agli allenatori, dirigenti, fisioterapista con tutti, abbiamo stretto buoni legami, ma anche con tanti stranieri che è stata una bella occasione per conoscere nuove persone. Ai miei obiettivi futuri sono sicuramente cercare di far bene al Gran Premio Italia, ai campionati italiani assoluti e anche ai campionati nazionali universitari che sono a fine marzo. Quindi dai, la stagione, c'è ancora una buona parte di stagione da portare avanti e cerchiamo di far bene.